quando guardate un albero il maestro dell'amore attraverso vanda albano 16 ottobre 2008 a cura dvb vorrei ora riferirmi all'albero come spesso faccio e vi chiedo quando guardate un albero cosa pensate io vi dico che l'albero non è semplicemente un albero ma è un segno della vita ed io lo uso sempre come paragone perché è l'unico che riesce a farvi comprendere come la vita nasca e si sviluppi man mano che passano le stagioni infatti l'albero cresce salendo sempre più in alto e la sua energia diventa sempre più intensa perché nel suo cammino ha la consapevolezza di esistere e di realizzare il volere per cui è stato creato avviene ugualmente per una rosa o un fiore qualsiasi a proposito di fiori mi soffermo un momento perché vorrei raccogliere i vostri per saturarli di energia anche se ne sono già permeati vorrei donargliene di più per farli ingigantire nel vostro cuore donatemi i vostri fiori poneteli sulle mie mani affinché possa ridonarveli splendenti di luce è un gesto simbolico che io ripeterò finché riuscirete a capire che in verità la vita non è come vi si presenta in questo momento è per questo motivo che ho preso i vostri fiori e ve li ho restituiti saturi di energia poiché la vostra è debole rispetto a quella che vi ho donato grazie a tutti